Bene, buongiorno a tutti. Mi è stato chiesto di svolgere una riflessione che ha un titolo particolarmente significativo, la giustizia del lavoro. Prendo le mosse da questa considerazione. Solo gli esseri umani lavorano, gli animali non lavorano. Questo può sembrare una banalità, ma invece come adesso vedremo è molto importante. Perché? Perché l'essere umano ha bisogno di lavorare. L'animale non lavora perché non ha bisogno di lavorare. E dire che il lavoro è un bisogno umano fondamentale è cosa tutt'altro che scontata. Perché da questo riconoscimento deriva il fondamento del diritto al lavoro. Troppo spesso noi ci limitiamo a parlare di diritto al lavoro, dimenticando il suo fondamento. Perché uno potrebbe chiedersi? Ma perché l'essere umano, la gente, ha diritto al lavoro? La risposta è perché lavorare è un bisogno dell'umano. Uno potrebbe dire, ma come? Ma il lavoro non è per caso fatica, sofferenza? Eh no, ma queste sono le conseguenze di un particolar modo di organizzazione sociale, che però non attaccano il bisogno fondamentale di lavorare. E perché c'è un bisogno? Perché l'essere umano realizza se stesso, cioè dire, fiorisce, come usava la parola Aristotele, attraverso il lavoro. Cioè noi conosciamo noi stessi ed entriamo in relazione con gli altri con il lavoro e attraverso il lavoro. Provate a pensarci. Infatti in questi tempi di pandemia, da coronavirus, una delle sofferenze è esattamente questa. Io parlo con la gente e mi dicono capiamo che quando si va a lavorare sbraichiamo, però avvertiamo che ci manca qualcosa. E quindi è un'ulteriore questa conferma di quanto ho detto. Allora, se il lavoro è un diritto e la Quarta Costituzionale italiana, al primo articolo, e questo è significativo, recita la Repubblica. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Pensate, nessun'altra Costituzione al mondo ha un articolo equivalente al nostro numero uno. Non dice, poi dirà che garantisce le condizioni, ma prima di tutto è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Fondata vuol dire che il fondamento, questo allora è la migliore controprova di quanto dicevo poc'anzi quando affermavo che il lavoro è un bisogno fondamentale. Detto questo allora, una distinzione che è importante, che ci aiuta a capire il titolo che è stato dato a questa chiacchierata, è quella tra giustizia nel lavoro e giustizia del lavoro. Quindi ho apprezzato quando il circolo mi ha invitato ad intervenire, chiarendo appunto che il titolo della conversazione sarebbe stato la giustizia del lavoro. Cosa vuol dire giustizia nel lavoro? La giustizia nel lavoro è sostanzialmente, non completamente, ottenuta dopo lunghe battaglie da parte del movimento operaio, dei sindacati eccetera. Giustizia nel lavoro vuol dire, per usare il vecchio termine, fine ottocento, inizio novecento, la giusta mercede all'operaio, si diceva così. Cioè dire, giustizia nel lavoro è quando tu dai al lavoratore un riconoscimento in termini sia monetari sia di collocazione nella gerarchia lavorativa adeguata alle sue caratteristiche. Ebbene, il 1900, il ventesimo secolo, è stato il secolo nel quale la giustizia nel lavoro è, almeno nei paesi del cosiddetto occidente avanzato, è stata ottenuta, salvo ovviamente eccezioni che meritano rispetto. Cos'è invece la giustizia del lavoro? La giustizia del lavoro è la grande sfida che il nuovo secolo, nel quale siamo entrati da un paio di decenni, pone di fronte a noi. Come il novecento ha cercato di realizzare la giustizia nel lavoro, il nuovo secolo deve porsi l'obiettivo di arrivare alla giustizia del lavoro. E cosa vuol dire? Per spiegare questo conviene distinguere due categorie di diritti umani fondamentali, i diritti cosiddetti negativi e quelli positivi. Qui bisogna stare attenti sul significato dei termini. Cosa vuol dire diritti negativi? Sono quei diritti per soddisfare i quali non c'è bisogno di impiegare risorsi. Quel che si richiede è di astenersi dal compiere determinate azioni. Prendiamo l'esempio tipico di un diritto umano fondamentale negativo. Diritti civili, ad esempio. Il diritto di libertà. Come io difendo questo diritto? Imponendo che nessuno violi la mia libertà di espressione, che non ci siano regole o anche leggi che non tutelino questo. Quindi i diritti si chiamano negativi perché per soddisfare gli stessi non c'è bisogno di un'azione che comporti l'esborso o di denaro o comunque l'uso di risorse. I diritti positivi sono invece questi. Per soddisfare i quali bisogna fare qualcosa. Lo Stato in certi casi, altri enti pubblici, ma più in generale la società civile. Ebbene, il diritto lavoro appartiene a questa seconda categoria. E allora noi qui vediamo che, nel caso italiano ma anche in altri paesi, negli ultimi decenni è accaduto che si è data grande enfasi ai diritti negativi. Pensate ai diritti civili, nelle varie articolazioni, diritti politici e così via. Cosa giustissima. Però abbiamo trascurato di prestare la dovuta attenzione ai diritti positivi perché, come ho appena detto, in questi casi occorre che qualcuno, un qualche ente, utilizzi risorse, spenda risorse di un tipo e dell'altro. E quando un paese si trova sotto vincoli di bilancio stringenti come il caso dell'Italia, ecco che vediamo che non sempre o quasi mai questi diritti positivi vengono soddisfatti. Ecco allora perché è importante parlare di giustizia del lavoro. Si può continuare a parlare di giustizia nel lavoro, ma ormai è superato perché in qualche modo è acquisito che l'operaio o il dipendente non venga frustato, sto esagerando ovviamente, lo uso in termini etaforici e così via. E allora la domanda che adesso ci si pone è questa. Che cosa è necessario oggi in un paese come il nostro, ma più in generale il discorso vale mutatis mutandis anche per gli altri paesi europei e dell'Occidente avanzato, per realizzare la giustizia del lavoro, dopo quanto sono venuto chiarendo? Primo, occorre andare a superare quello modo di organizzazione produttiva che è nota nella letteratura di lingua inglese come jobless growth. Growth vuol dire crescita, jobless vuol dire senza un posto di lavoro, cioè una crescita che si realizza senza creare posti di lavoro. Gli studenti, chi ha studiato un po' di economia e che ha una certa età, sa che fino almeno a un quarto di secolo fa, sì in tutti i libri di testo di micro o macroeconomia si citava la legge di Okun, Okun o K-U-N, un economista americano che diventò celebre negli anni 50-60 per aver elaborato la cosiddetta curva. Cosa diceva questa curva? Che esiste una relazione diretta e quindi positiva tra aumenti del PIL, del prodotto interno lordo, cioè del reddito complessivo e creazione di nuovi posti di lavoro. Ad esempio, se diceva il reddito aumenta dell'1%, in alcuni paesi si creeranno 0,5% in più di posti di lavoro e quindi simmetricamente si ridurrà la disoccupazione, in altri 0,7-0,4% a seconda della struttura. Però sempre aumentando il PIL si riduce la disoccupazione e da qui ne sono derivate tutta una serie di politiche economiche che è facile immaginare e vi assicurò che tutti i governi occidentali, chi più chi meno, hanno sempre creduto alla legge di Okun. Per cui ecco l'impulso a che si usassero le risorse per infrastrutture o per altri scopi, l'obiettivo era aumentare il PIL, perché questo avrebbe ridotto i margini di disoccupazione. Qual è la novità di oggi? Che la legge di Okun non è più valida. Tanto è vero che se andate a vedere i libri più recenti non se ne fa più parole, perché quasi ci si vergogna di insegnare cose non più vere. Perché oggi un paese può crescere anche distruggendo posti di lavoro? Cioè il paradosso, paradosso è parola greca che significa meraviglia, sorpresa, qualcosa che non ti saresti aspettato e che accade. Il paradosso oggi è che per crescere, cioè per aumentare il PIL, devi distruggere posti di lavoro. concretamente devi licenziare i meno produttivi, quelli che hanno un'efficienza inferiore alla media, quelli portatori di handicap di un tipo o dell'altro e così via. E questo evidentemente è una sfida nuova. Perché da un lato abbiamo detto che il lavoro è un bisogno fondamentale, la persona che non lavora soffre. E non date retta a chi dice che non è così, che basti dare dei soldi alla fine della vita. Non è così. C'è un bellissimo film ormai di tanto tempo fa americano che raccontava la vita e il protagonista ad un certo punto dice con i soldi che vado a ritirare all'equivalente della cassa integrazione e guadagni in Italia, io riesco a mangiare per tre settimane, ma per tutto il mese mi porto dentro la vergogna conseguente. Ovviamente è una frase da fin, però ci deve far riflettere. Non crediamo a coloro i quali ritengono che alle persone sia sufficiente ricevere a fine mese qualche forma di reddito negando loro l'accesso al lavoro. Perché il lavoro, abbiamo detto prima, è ciò che garantisce la fioritura umana. Noi rifioriamo e continuamente solo attraverso il lavoro, che ovviamente deve avere certe caratteristiche, ma questo viene successivamente, dopo. Ecco allora perché il fenomeno del jobless growth è inquietante. Qualcuno potrebbe chiedersi a che cosa è dovuto questo mutamento? Perché la legge di Occu? La risposta pure è semplice e ha due nomi. Globalizzazione da un lato e quarta rivoluzione industriale dall'altro. Noi oggi viviamo nel bel mezzo della quarta rivoluzione industriale che ha inizio nel 2001. Fino ad allora c'era la terza rivoluzione industriale. Perché nel 2001? Perché è nel 2001 che Apple immette sul mercato l'iPad e da quel momento prende avvio quel fenomeno noto come tecnologie convergenti, e cioè l'alleanza, chiamiamola così, strategica, tra intelligenza artificiale, robotica, le nuove biotecnologie e così via. Ebbene, qui chiaramente non abbiamo oggi il tempo, ma più o meno l'abbiamo imparato. Questi due fenomeni, congiuntamente presi, globalizzazioni di cui do per scontato che si sappia grosso modo di che si tratta, e quarta rivoluzione industriale, hanno determinato il fenomeno della crescita senza occupazione. L'esempio che si fa sempre è quello immediato, e cioè i robot oggi sostituiscono nei magazzini il lavoro di tanti magazzinieri eccetera eccetera. Parliamo poi di quel che avviene nell'ambito dei servizi. Pensate al settore bancario, è difficile andando in banca oggi trovare allo portello un bancario pronto ad ascoltare i tuoi problemi e così via. Ecco quindi qual è la prima diciamo sfida che una società che voglia prendere in considerazione seria la giustizia del lavoro deve fare. Perché è vero quello che ho detto, però è vero trovare i rimedi. E i rimedi, adesso lo li offrono un poco. Però è bene che si sappia e direi che l'esempio storico più interessante ci viene dal passato. Quando Gutenberg in Germania inventò la macchina stampa, cosa successe? Che nel giro di pochi mesi tutti gli amanuensi, coloro i quali scrivevano i libri a mano, rimasero senza lavoro. Ma di lì a poco cosa si verificò? Che gli amanuensi diventarono tutti librai, cioè impararono il nuovo mestiere. Quindi le nuove tecnologie non è vero che distruggono lavoro o posti di lavoro, come molti dicono ancora oggi in Italia, sia giornalisti che altri. No, lo trasformano il lavoro. Questo sì, ma quando avviene la trasformazione bisogna essere pronti a conoscere la strategia che occorre seguire per realizzare la trasformazione. E di questo dirò tra breve. Però la cosa importante che vorrei che fosse chiara, soprattutto quando si parla ai giovani, è che mai credere ai cosiddetti disfattisti oppure pessimisti o misoneisti. Questa è una bella parola, imparate. Misoneismo è una parola greca che letteralmente vuol dire l'odio del nuovo. Quindi il conservatore è sempre un misoneista. Chi odia l'innovazione, chi ha paura che il nuovo neghi la identità profonda dell'essere umano. Non è vero, non hanno ragione misoneisti. Anche se è vero che, come diremo tra breve, ci sono problemi. Una seconda sfida che minaccia l'obiettivo di cui stiamo parlando è legata anche qui ad una posizione teoretica in economia che oggi ormai è uscita un po' di scena, ma fino ad anni recentissimi continuava a essere insegnata nelle nostre università e nei nostri libri di testo. E cioè il concetto di tasso naturale di disoccupazione. In Nairu, in acronimo inglese, però non entriamo negli aspetti tecnici e così via. Cioè si dice da parte della teoria mainstream, mainstream vuol dire la teoria dominante in economia, che affonda le sue radici nella scuola di pensiero neoclassica, un'economia di mercato per funzionare ha bisogno che ci sia in maniera permanente una quota di forza lavoro che resta disoccupata. Questa quota può variare, ma in generale è stimata intorno all'ordine del 5%. In altre parole, un'economia di mercato non potrà mai funzionare in maniera appiena se siamo in presenza di piena occupazione. Perché? Perché l'economia di mercato di tipo capitalistico ha bisogno di quello che Karl Marx aveva chiamato, con un'espressione molto felice, l'esercito industriale di riserva. Cioè bisogna che ci sia sempre una scorta di lavoratori pronti ad essere assunti alle condizioni salariali imposte dal datore di lavoro. Perché se tutti fossero occupati, questo meccanismo chiaramente non potrebbe operare e il livello salariale sarebbe ovviamente destinato ad aumentare. Ora voi capite che se voi parlate con molti economisti, quelli vi dicono che è ovvio perché ci sono le frizioni, la disoccupazione frizionale e ci sono queste difficoltà di aggiustamento, che è un modo sciocco di ragionare. Perché non è questo il punto. Il punto è che nel momento stesso in cui tu riconosci, anzi esigi, che ci sia uno stock di forza lavoro che resta disoccupata, indipendentemente dal fatto che sia il 5, il 6 o il 4 per cento, tu vieni a negare il punto di partenza, da cui in questa conversazione ho preso le mosse. E cioè che il lavoro è un bisogno. Forse che se solo il 5 per cento è disoccupato, allora quelli lì non meritano, quelle persone, di vedere realizzata la propria prospettiva di vita. Ecco allora la seconda sfida. Bisogna che gli economisti capiscano che l'economia non è una scienza tecnica, è una scienza sociale, meglio una scienza morale. Bisogna smetterla con argomenti pseudo-tecnicistici che servono soltanto a gettare fumo negli occhi, con argomenti del tipo, eh beh ma non si può fare meglio. Ma chi l'ha detto che non si può fare meglio? Se tu sei incapace di fare meglio, perché sei schiavo di una certa ideologia, non la puoi fare meglio questa tua posizione generalizzare e farla diventare teoria e imporla a tutti gli studenti universitari o anche non universitari che si dedicano alla materia. Perché questa è una ingiustizia gravissima, altro che storia. Tu puoi dire, nella mia concezione, per la mia ideologia, mi va bene che ci siano persone permanentemente disoccupate, ma non puoi dire con l'arroganza di certe persone, alcune anche premi Nobel, che dicono che questo deve essere così per vedere il funzionamento dell'economia di mercato procedere in maniera adeguata. Il terzo è quello che riguarda direi il sistema scolastico e universitario e qui bisogna effettivamente dire una parola che io non ho la pretesa di elaborare completamente. Dobbiamo sapere che il nostro sistema scolastico e universitario è da rifondare, non da riformare. Le riforme non servono a niente, perché le riforme le chiede, i conservatori chiedono le riforme. Infatti, cosa vuol dire in italiano riforma? Vuol dire dare nuova forma a qualcosa che rimane identico a se stesso. E allora bisogna imparare l'uso delle parole. Il nostro sistema scolastico ha bisogno di essere rifondato, cioè nuovi fondamenti. E voi direte in quale direzione. Anche qui, per farmi capire, una delle espressioni maggiormente utilizzate oggi è quella della cosiddetta alternanza scuola-lavoro. Ecco, questo è l'errore più grave che si potesse fare. Perché il concetto di alternanza scuola-lavoro è ciò che ci impedisce di affrontare a testa alta il problema di cui ci stiamo occupando. Perché cosa vuol dire alternanza? Alternanza vuol dire che il lavoro è alternativo alla scuola. E infatti, quando io incontro per strada i giovani soprattutto, dico, cosa fai? Vai alla scuola, all'università? Ah, dice no, no, io vado a lavoro. Poi trovo un altro e dico, tu vai a lavoro? No, no, dice io non lavoro, io vado a scuola. E quando io aggiungo, ma secondo te andare a scuola o andare all'università, cioè studiare, non è un lavoro? Ah, no, cosa c'entra? Cioè, se noi non abbattiamo questa, diciamo, concezione letteralmente diabolica dell'alternanza scuola-lavoro, non riusciremo mai ad affrontare la giustizia del lavoro. Dobbiamo parlare di convergenza scuola-lavoro. Cioè, scuola e lavoro devono convergere. Ma non convergere in senso, diciamo, puramente materiale o geografico, ma dal punto di vista del ripensamento dei modi e dei contenuti sia del lavoro che dello studio. E per farmi capire, ancora meglio, c'è una parola che esisteva fino a tutto l'Ottocento e che poi dal Novecento in poi è uscita dal nostro orizzonte e dal nostro quasi lessico, anche se c'è ancora, se uno va a controllare un'encecopedia audizionale. Ed è la parola conazione. La parola conazione, sapete, l'ha cognata Aristotele, 2400 anni fa. Aristotele era intelligente, aveva capito tutto. Conazione è una parola che risulta dalla crasi, cioè l'unione, di due parole, conoscenza e azione. Qual è l'idea? Che la conoscenza deve essere messa al servizio dell'azione e la azione ha bisogno della conoscenza. Invece il nostro modello, che abbiamo ereditato ancora dalla riforma gentile, tiene separati i due mondi. Prima si conosce e poi si va ad agire. È vero o non è vero? Vorrei che qualcuno... Poi ci sono le eccezioni, che sia ben chiaro. Ci sono le eccezioni perché ci sono docenti, professori, che nonostante le direttive, chiamiamole ministeriali, hanno, usando della loro autonomia, fatto un percorso diverso. Ma io parlo adesso in generale. Per cui voi avete medici che studiano sei anni e non hanno mai toccato la pancia di un paziente. Ingegneri o anche gli stessi economisti che non hanno mai messo il becco dentro un'impresa o dentro un ufficio. Perché l'argomento è prima devi, come si dice, studiare la teoria e poi dopo la pratica, che è una delle distinzioni più stupide che si possa pensare. Tra teoria e pratica non ci può essere separazione. C'è autonomia ma non separazione e così via. Al di là di questo è chiaro che se noi non riformuliamo, rifondiamo il sistema scolastico universitario non si potrà mai avere ragione del fenomeno che prima, che poc'anzi ho denunciato. Perché? E qui riprendo quanto detto al primo punto. Le nuove tecnologie, le tecnologie del digitale abbiamo detto trasformano il lavoro. Quindi io fino adesso ho fatto il tornitore, sto facendo esempi banali, ho fatto il tornitore, arriva il robot e l'intelligenza artificiale e mi mandano a casa. È chiaro che pur avendo una certa età io sono ancora in grado di apprendere, però non posso farcela da solo. L'esempio di prima di Gutenberg va preso con le pinze. Perché per passare dal libro al libraio, sì, bastava un pochino di apprendistato, diremmo oggi, ma si poteva imparare. Oggi non è così. Perché se io per vent'anni ho fatto il tornitore, per imparare a usare le nuove macchine, chiamiamole così, ho bisogno che qualcuno, in questo caso la scuola con l'S in maiuscola, mi riprenda dentro il proprio ambito e sull'arco di almeno un anno mi faccia seguire un percorso. Ma le nostre scuole, guai, quando tu esci dalla scuola a 18-19 anni è finito. Dico, ma vogliamo scherzare? Ma dove sta scritto che la scuola deve funzionare solo fino a 18 anni? Dai 6 anni ai 18 anni, prima ci sono le scuole materne e così via. Dove sta scritto? E noi teniamo un capitale, anche capitale di termini immobiliari, oltre che capitale umano di tutti i docenti, sostanzialmente sottoutilizzato rispetto a questo obiettivo. Se noi invece prendessimo le persone che furiescono dal processo lavorativo per la ragione ricordata e li mettessimo a seguire corsi di riformazione, ma non di aggiornamento, perché qui non è un problema di aggiornamento, perché insegnare la logica del digitale a chi non l'ha mai studiata richiede uno sforzo non indifferente. Ed è chiaro che allora, se noi facciamo questo, il quarantenne o al cinquantenne che viene espulso non rientra proprio. Ma se noi al cinquantenne lo immettiamo in un percorso di un anno almeno, quello potrà essere recuperato e ripreso. Ecco allora perché la giustizia del lavoro esige una rifondazione del sistema scolastico. Per dirgli una battuta, le nostre scuole hanno ancora un impianto taylorista, il taylorismo. Cioè ti insegnano ad eseguire cose che esistevano già da prima. Ma se noi dobbiamo invece attrezzare le persone alla cosiddetta creatività, è ovvio che va cambiato il modello di insegnamento. In America già questo è cominciato e anche in Germania. Provate per credere. Non so se a voi avete mai sentito parlare delle flipping classes, cioè le classi rovesciate, molto interessanti, avendo rapporti con l'America, insegnando ormai da 45 anni in università americana, ho la possibilità di vedere, di toccare con mano, tanto per togliere la curiosità. I professori mandano il giorno precedente alla lezione, nelle forme o di slide o addirittura di scritti, il contenuto della lezione. Gli studenti se lo guardano prima e nell'ora di lezione sono loro a interrogare il professore. Cioè sono loro a chiedere ai professori o delle lucidazioni o comunque il modo di risolvere quelli quesiti o quei problemi che il professore assegna a loro. Cioè è la cosa più stupida che si possa fare. Perché in un'epoca come questa, mai come questa epoca, c'è bisogno della cooperazione. La cui regola è il principio di reciprocità. Non dimentichiamo ormai la reciprocità. Nella cooperazione io ti do qualcosa e tu mi reciprochi in un'altra forma. Non applicando il principio dello scambio di equivalenti, ma il principio di proporzionalità. Cioè ognuno dà in proporzione a quello che è capace. E poiché nessuno può dire di essere a posto su tutti i fronti, capite perché questo modello nuovo, a dire la verità, un modello così, chi l'aveva pensato in Italia? Quella grande donna che è stata Maria Montessori. Però in Italia le scuole montessoriane sono... Eh perché evidentemente dava fastidio al regime, il fascismo eccetera. Ma in America ci sono ancora oggi le scuole montessori. Provate ad andare a vedere. E l'idea sua è esattamente quella di creare quella che lei chiamava la comunità educante. Dove tra docenti e studenti si stabiliscono queste relazioni di reciprocità e direi di mutuo aiuto, come si potrebbe dire in altri termini. E questa omette la soddisfazione sia degli studenti ma anche dei docenti che si divertono di più. Ecco allora il terzo è il terzo punto o sfida da raccogliere se vogliamo metterci sul sentiero della giustizia del lavoro. Un quarto è quello che riguarda la vexata question dei sistemi di tassazione. L'Italia è un paese benedetto, si fa per dire, che ha questa furbizia che tassa molto di più i redditi da lavoro che non i redditi da rendita. Voi sapete cos'è la rendita? La rendita è quella parte del reddito nazionale che deriva soltanto da un diritto di proprietà. Perché il percettore di rendita non produce nulla. La rendita è soltanto un trasferimento dalle tasche di un societto a quello di un altro. Perché chi è produttivo, cioè genera valore, è da un lato il lavoro e il capitale e quindi il salario e il profitto. Ma la rendita è come un parassita che vive sulle spalle degli altri. Il grande economista David Ricardo, l'economista inglese della prima rivoluzione industriale all'inizio dell'Ottocento, nel suo libro fondamentale pubblicato nel 1820, scrive che un paese non potrà mai progredire se la quota della rendita, in inglese rent, sul prodotto complessivo supera il 15-16%. Perché un po' di rendita è inevitabile, purché non sia troppo. E per Riccardo a quell'epoca, 15-16%. Sapete voi oggi quant'è la quota della rendita sul PIL, sul prodotto italiano? È il 32%. Quindi quasi un terzo. Ma per forza che dopo le cose vanno male, che il paese è in declina. Perché la rendita è sempre improduttiva, sempre. C'è stato in passato qualche economista da strapazzo che aveva cercato di giustificare la rendita con argomentazioni soltanto ideologiche. Ma chi sa, chi un po' di teoria economica, sa che la rendita è sempre improduttiva. Allora è un paese che tollera che al proprio interno ci sia un terzo delle risorse che sono improduttive, ci fa capire le difficoltà, ovviamente non solo nostre italiane, ma anche quelli di altri paesi. Ecco allora, se vogliamo realizzare giustizia del lavoro, una quarta pista di attacco al problema, bisogna che rifondiamo il nostro sistema fiscale. Perché l'idea che deve passare, sulla quale anche Joe Stiglitz, premio Nobel, molto noto ormai recentemente ha ribadito in suo scritto, il principio è che le tasse le devono pagare in primis gli improduttivi. I improduttivi sono coloro che prendono e non restituiscono alla società e in secondis poi gli altri, come è ovvio che avviene. Guardate che quando si parla di rendita si fa riferimento a diverse tipologie di rendita. C'è la rendita finanziaria, c'è la rendita immobiliare, c'è la rendita fondiaria e soprattutto c'è la rendita burocratica. Perché oggi, in questa stagione di tristezza, la parola più utilizzata è deburocratizzare. In questi due mesi, basta prendere un giornale qualsiasi, la parola deburocratizzazione è in cima alle parole, alla lista delle parole più usate. Perché ci sta rendendo conto? Eh ma la burocratizzazione e quindi burocrazia è una fonte di rendita. Quindi sarebbe meglio chiamare le cose con loro nome. Noi dobbiamo far partire in Italia una lotta senza partire contro tutte le rendite. Pensate alla rendita da gioco. Chi vale slot machines? Secondo voi? Eh, perché la rendita è un trasferimento. Chi perde deve cedere il proprio potere d'acquisto a chi vince, ma non c'è creazione di nuovo valore. Per non parlare poi dei costi sociali, non solo economici della vita. Perché quando in un paese la cultura della rendita mette radici, quello che succede è che molti, soprattutto tra i giovani, preferiscano vivere di rendita piuttosto che impegnarsi in progetti di un tipo o dell'altro capaci di espandere le possibilità e la frontiera delle possibilità produttive di un paese e così via. Questo l'aveva già anticipato Adam Smith. C'è un bellissimo passaggio. Dice sì, perché se un governo tollera di fatto le rendite, chi lo fa fare a un potenziale imprenditore di mettersi a lavorare, spaccarsi la testa, non dormire la notte, quando può diventare ricco in altra maniera? Allora, la conclusione di Adam Smith, rivolgendosi al re, dice tu non concedere renditi di nessun tipo. E in effetti l'Inghilterra ha fatto, ha tratto vantaggio da questa raccomandazione ed è il motivo per cui diventata poi la prima potenza economica del mondo e così via. Ecco allora quindi questa. Infine c'è una quinta, cioè una quinta a pista di azione ed è quella che riguarda, questo è un po' più delicato, quindi avrei bisogno di più tempo, la questione di genere, donne e uomini. Questo è un problema serio. Perché? Perché se il lavoro è un bisogno fondamentale dell'essere umano e se l'essere umano ha due determinazioni, maschile e femminile, non si capisce perché le regole sia di funzionamento, sia del mercato del lavoro, sia di organizzazione lavorativa dentro le imprese, debbano essere modellate sulla figura maschile e non su quella femminile. Provate a pensarci. Perché vedete perché è stato importante dire all'inizio che il lavoro è un bisogno? Perché se voi non dite questo, le donne saranno sempre calpestate, ve lo dico io. Sono pronto a dimostrarlo. Solo se partite da quella. Allora se è un bisogno fondamentale dell'essere umano, l'essere umano ha due determinazioni maschile e femminile, dunque il diritto, lavoro, deve assecondare le legittime aspettative dell'uno e dell'altro. E invece non è così. Perché ancora oggi l'organizzazione del lavoro è tutta pensata e calibrata sulle caratteristiche maschine. Ora qui non c'è bisogno di entrare in discussioni o filosofico o sociale, perché si capiscono da soli queste cose. Perché il taylorismo, 1911, l'anno in cui Taylor pubblica la sua opera fondamentale, il taylorismo è un modello di organizzazione scientifica del lavoro maschilista. So che qualcuno non vuole che si dica, ma io lo dico lo stesso, perché a me piace la libertà e io dico quel che penso. Pronto a cambiare se uno mi dimostra, però nessuno mi lo dimostra. Nessuno mai riuscire, perché è maschilista. E quindi cosa sta succedendo? Che le donne, per accettare quelle regole che non si confanno al loro bisogno di realizzazione personale, finiscono con lo snaturarsi. Andate a parlare voi con gli psicoterapeuti, psicanalisti, eccetera. Fatevi raccontare quello che i loro pazienti o clienti raccontano loro. Questa è all'origine. Questa è la ragione per cui uno studio recentissimo, da poco pubblicato negli Stati Uniti, molto interessante. Ed è il Queen Bee Syndrome. Cioè la sindrome dell'ape regina. Queen Bee è l'ape. La sindrome dell'ape regina. E questo è bellissimo. Quando l'ho letto non volevo credere. Cosa hanno scoperto in questo lavoro empirico? Lavoro svolto da tre donne, tre studiosi. Una è un economista, una è una psicologa e una è una sociale. Che le donne, state attenti, che arrivano al vertice delle gerarchie aziendali, cioè amministratore delegato, non presidente, perché in Italia le donne le facciamo diventare presidenti, perché non contano niente. Ma quello che conta è l'amministratore delegato, cioè il vero manager, il vero capo azienda. Ebbene, in America le donne, non tante, ma ce ne sono, che sono arrivate ai vertici dell'organizzazione aziendale, si snaturano. Prendono la sindrome dell'ape regina. Che vuol dire? Trattano gli altri, e soprattutto le donne che lavorano nella loro impresa, peggio di quel che tratteregono gli uomini. Perché? Perché arrivando a quel livello temono di essere criticate, di arrendevolezza, di essere troppo teneri e così via. E questo sta determinando degli sconquassi psicologici che vi lascio immaginare. Perché da un lato c'è la ovvia e naturale tendenza a scalare i gradini della gerarchia. E questo è ovvio per ogni essere umano. Però dall'altro, per arrivare in cima, devi acquisire il modus agendi e il modus operandi degli uomini, dei maschi. E questo ovviamente alla lunga provoca sofferenze inaudite. Ebbene, una società che mantiene questi, ce ne sono anche altri, ma qui sto finendo il tempo, questi fenomeni non è una società che realizza la giustizia del lavoro. Adesso capite cosa voglio dire? Perché le donne sono il 51% della popolazione italiana. In generale l'Italia sono un po' più, eccetera. Sono la maggioranza. E loro in base a quale principio? Vorrei che qualcuno mi spiegasse. Si obbliga la maggioranza delle donne che per lavorare devono adottare uno stile di lavoro e un'organizzazione di lavoro che è stata pensata per gli uomini. Ora voi sapete che si sta facendo strada anche in Italia, ma molta fatica, un modello alternativo a quello terrorista. E si chiama olocrazia. Il modello della olacrazia, parola greca, è stato cognato da Brian Robertson, un economista americano di Harvard Business School. Harvard Business School è il numero uno. Stiamo parlando di un'università di provincia. Ebbene, lui nel 2007, quindi 13 anni fa, ha pubblicato questo libro, Holocrazia. Che vuol dire holocrazia? Che è una parola che mi ha colpito che gli editori, un editore americano, la Harvard University Press, abbia accettato una parola che non esiste in inglese perché è greca e di cui molte persone non sanno. Però hanno questa capacità di sfidare e di... perché la gente è così sincronologissima. E il modello olocratico è oggi agli inizi. In Italia sta cominciando appena peggio, però si diffonde là. E uno dei punti cardinali di questo modello di organizzazione del lavoro è quello che ho appena detto. E cioè, poiché le donne sono portatrici di abilità nel senso alto del termine e quindi di capabilities nel senso di amarti a sé, diversa da quelli degli uomini, e poiché per avanzare sulla via della civilizzazione c'è bisogno di mettere assieme entrambi i tipi di abilità, quelli più squisitamente maschili e quelli più squisitamente femminili, allora bisogna che il modello di organizzazione del lavoro venga rifondato anch'esso. Non può essere quello appunto pensato inizialmente dall'ingegnere Taylor, con i meriti non vanno discursi, che sia ben chiaro, anzi ha avuto un successo straordinario. L'America è diventata la prima potenza dopo la prima guerra mondiale, superando l'Inghilterra grazie al modello taylorista. Questo penso che si sappia. Così come, questo molti non vogliono che si indica. Voi sapete che Lenin, dopo la rivoluzione d'ottobre, fece tradurre in russo il libro di Taylor. Lo sapevate, no? E dice questo è il modello di organizzazione che ci vuole per la nostra Unione Sovietica. E lo ha applicato e tutti i managers dovrebbero studiare. Chi ebbe il coraggio di criticare questo, sapete chi è stato? Antonio Gramsci, che era un umanista. Era comunista, ha fondato il Partito Comunista Italiano, però non ci siamo capiti. E per averlo criticato ha pagato le conseguenze che voi sapete. Conseguenze della vita, eccetera. Questo per dire che quel modello è pensato sul principio di gerarchia, una gerarchia squisitamente maschile. Ho finito il tempo quindi devo concludere. Siamo partiti chiarendo che il lavoro è un bisogno, proprio perché è un bisogno fondamentale da cui deriva il diritto al lavoro. articolo 1 della Carta Costituzionale Italiana. Che però il diritto al lavoro è un diritto positivo, non è un diritto negativo. Cioè non basta che io dica non ti impedisco a te di lavorare. No, positivamente devo mettere in atto qualcosa per assicurare che questo diritto venga realmente fruito dalle persone. Per fare questo mi sono limitato a indicare cinque linee di intervento. Ce ne sono anche altre, ma queste sarebbero più che sufficienti per riaprire un dibattito di alto profilo nel quale la transdisciplinarità è molto importante. Non possiamo affidare la questione del lavoro solo agli economisti, solo ai sociologi, solo agli psicologi, eccetera. Bisogna superare queste barriere perché ci sono aspetti che riguardano competenze diverse e quindi il dialogo deve tornare a essere la regola di funzione. Ce la faremo? Io sono, purtroppo, ognuno nasce con i propri vizi, ottimista di natura e quindi rispondo di sì e ce la faremo. E sapete perché? Perché la gente si sta stufando, non ne può più. Non ne può più anche di avere un reddito, ma non avere la soddisfazione. Non sto a ripetere quello che dicevo prima. E può darsi benissimo che questa pandemia, con tanti lutti, straci negativi che si reca appresso, avrà certamente la possibilità di aprire gli occhi. Perché la gente che è forzatamente costretta a stare in casa sta soffrendo di una malinconia di cui i giornali ovviamente non possono parlare e che non ha nulla a che vedere con la sofferenza fisica. È una sofferenza dello spirito. Ma quando a una persona le togliete lo spirito, cosa resta? Grazie per la vostra attenzione e di nuovo tanti cari auguri e buona festa del primo maggio. Grazie.